È Leopoldo Destro, 47 anni, il primo presidente in pectore di Assindustria Veneto Centro. L'associazione è nata dalle fusioni degli industriali di Padova e Treviso, 3.500 imprese rappresentate, 170.000 collaboratori, seconda Confindustria d'Italia per numero di associati. Amministratore delegato dell'azienda di famiglia Lariston Cavi, figlio dell'ex onorevole ed ex sindaco di Padova Giustina Mistrello Destro, Leopoldo Destro, come presidente di Assindustria Sport Padova, società di atletica leggera e vertici nazionali, ha dato vita e pieno sostegno alla Padova Marathon. Un grande consenso è stato raggiunto attorno al suo nome nel Consiglio Generale, riunito a Treviso, dove l'84% dei rappresentanti ha espresso voto favorevole. Inizia adesso il cammino verso l'elezione che avverrà nel corso dell'Assemblea di Assindustria Veneto Centro il prossimo 31 ottobre. Grazie. Grazie.